Ciao e benvenuto al 38esimo quiz time di BTT6. Io come sempre sono Manulax. Ripetiamo velocemente la regola. Una sola risposta persona, il quiz termina domenica 13 novembre alle ore 18 e la domanda è la seguente. Dato che ultimamente sto ricevendo un po' di, tra virgolette, la mia tele che i miei quiz sono troppo difficili, proviamone uno che mi avete consigliato voi. Tipo Mattito MC. Ha fatto il quiz. Quanti eroi costano gli stessi soldi? Penso che intenda quante eroi hanno almeno un'altra torre con lo stesso valore. Scrivetemi la risposta nei commenti e buona fortuna con il quiz.